Ancora ottimi piazzamenti per la scuola Basaki di Ragusa. La scuola Master è riuscita sabato scorso a mettere in luce anche questa volta il proprio valore e lo ha fatto partecipando a Tarcento in provincia di Udine, alla dodicesima edizione del trofeo Master di Judo, valida come terza prova del campionato italiano Master. La squadra ragusana era rappresentata da Danilo Occhipinti, categoria 73 kg, classe M3, e da Salvatore Miciluzzo, categoria 73 kg, classe M2. E entrambi, nelle rispettive categorie, sono riusciti a dar vita a una gara a dir poco spettacolare, riuscendo a conquistare due piazzamenti di assoluto prestigio. Infatti, sia Occhipinti sia Miciluzzo si sono classificati al secondo posto, conquistando due medaglie d'argento e chiudendo nel modo migliore all'interno del palazzetto dello sport della zona friulana la stagione sportiva. I nostri Master, dice il maestro della Basaki, Salvo Baglieri, hanno animato una gara che si è rivelata molto difficile, sono riusciti a dar vita a un combattimento di grandissimo spessore e si sono fermati a un soffio dalla conquista del primo posto. E speriamo che l'oro sia soltanto rimandato. I più piccoli, domenica prossima, chiuderanno la loro stagione e auspichiamo che anche per loro possono arrivare risultati degni di attenzione.